Dirsi la verità è il miglior modo per far nascere altre verità. In quest'ottica, giovedì 27 luglio a Bova Marina si è riunito il coordinamento del Basso Ionio del Partito Comunista dei Lavoratori alla presenza del responsabile della Commissione Meridionale, Pino Siglari. La riunione ha ribadito che di fronte al pericolo delle tre destre, Renzi, Berlusconi e Grillo, non servono i rimescolamenti elettoralistici a sinistra, ma la costituzione di un raggruppamento di militanti che nelle contraddizioni reali della crisi vogliano oggi costruire opposizione su un progetto di alternativa socialista guidata dai lavoratori. Il PCL promuoverà nelle zone un incontro sui problemi del territorio. Nella riunione, inoltre, è stato confermato lo svolgimento di una riflessione a carattere nazionale sui cento anni della rivoluzione russa e quello di una conferenza meridionale del PCL. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.